Abbiamo dei dolcissimi pomodorini ciliegino e li utilizzeremo per realizzare una torta salata. Ma di quelle davvero molto veloci da fare o all'ultimo minuto oppure anche in anticipo perché sarà molto buona anche fredda. Vediamo cosa ci serve. Abbiamo un rotolo di pasta sfoglia, chiaramente potete anche se avete tempo prepararla a casa e al posto della sfoglia volendo potreste utilizzare anche una pasta brisè. Poi 350 g di pomodorini ciliegino, 500 g di ricotta, un uovo e poi foglie di basilico per dare un po' di profumo e come sempre sale, pepe, olio. Prepariamo una sorta di crema di ricotta. Se utilizzate quella nei vasetti solitamente ha già una consistenza davvero molto cremosa. Alla ricotta aggiungiamo un pizzico di sale, una bella macinata di pepe nero, un uovo intero e le foglie di basilico spezzettate. Una bella mescolata, magari con una frusta per essere sicuri che non ci siano dei grumi e la nostra crema è pronta. Passiamo allora ai pomodorini che vanno lavati molto bene e poi semplicemente tagliati esattamente a metà. Prendiamo la nostra sfoglia e lasciandola nella sua stessa carta la sistemiamo all'interno dello stampo. Andrà bene uno stampo di 24 massimo 26 centimetri. Buchereliamo il fondo della sfoglia con i rebbi di una forchetta e poi possiamo distribuire la crema di ricotta. Livelliamo con il dorso di un cucchiaio e siamo pronti per adagiare anche i pomodorini. Disponeteli uno accanto all'altro o un po' più distanti, scegliete voi. Una volta sistemati, schiacciandoli un po' nella crema di ricotta per affondarli, li andiamo a condire con un pizzico di sale e con un bel po' di origano, se gradite. Un filo di olio di oliva in superficie. Il forno è caldo, non ci resta che ripiegare i bordi della sfoglia verso l'interno pizzicandoli. Possiamo spennellarli con un po' di olio di oliva affinché la sfoglia possa prendere un bel po' di colore durante la cottura e andiamo ad infornare in forno ventilato a 180 gradi per circa 30 minuti. Ecco, è passata una mezz'oretta, sforniamo la nostra torta rustica che sarà davvero squisita, sia tiepida ma vi posso garantire anche fredda. È una ricetta molto bella per l'estate, da fare ancora per tutto l'autunno quando i pomodorini non sono di serra e regalano il massimo del loro sapore e del loro profumo. Aspetto anche di sapere le vostre idee, se avete delle ricette da condividere o delle domande da fare potete commentare sulle nostre pagine o sotto questo video. Se la ricetta vi è piaciuta condividetela e vi aspettiamo anche sui siti cibodoc.it e vivomangiando.it con tante altre ricette.